Vieni nelle farmacie comunali a scoprire la nuova linea di Solari Caletea. La linea include spray solare viso e corpo protezione 30, spray solare viso e corpo protezione 50, crema solare invisibile viso e corpo protezione 50, crema solare protezione alta bambini 50, crema solare protezione molto alta bambini 50+, latte solare viso e corpo protezione 50 anche in versione Travel, stick protettivo labbra e zone delicate, spray dopo sole invisibile, Solari Caletea di farmacie comunali.it, una protezione sicura da chi ti conosce bene.